Allora, 22.19 siamo tornati dalla regia, ci contano i minuti caro Giulio, allora dobbiamo andare veloci con i messaggi, altrimenti ci sfumano. Allora, questo ci lo scrive Marco, dice in giro per l'Italia, poi fa tante sci con Casotti e poi facciamo il club, dice Casotti porti bene il direttore della domenica alla radio, sta diventando una leggenda per me pesante questa, questo non si firma e dice a quando trasferte tipo Ferrara, Civitavecchia eccetera eccetera, speriamo presto, forse per il numero dei tifosi si riferiva a quello, trasfette comunque che hanno avuto una storia, speriamo sia Correggio uguale a Civitavecchia, un saluto a tutti, Forza Lucchese da Gio 68, questo è simpatico perché dice, non è per, anzi in Lucchese dice, un è per S e Pignolo, tre punti vendita e due maglie in palio, dov'è che la lotteria non vale? Allo Stato, questo è simpatico eh? Allo Stato, ma magari i dirigenti qualcuno ci sta seguendo, anzi ci seguono sempre e quindi vabbè lanciamola là. Attento e arguto. Lanciamola no prof, tre maglie dai facciamo tre, a questo punto tre maglie dai hai ragione questo è un altro Marco, dice a fine maggio siamo in C, a parte ci siamo i primi di maggio in C se tutto va bene e per festeggiare mi faccio un giretto a Euro Disney, il prossimo campionato in giro per l'Italia con Casotti e la musica di Guccini, non so perché la musica di Guccini ha ragione, la musica di Guccini mi viene a ripressione, non so se sta per a Correggese, Guccini, non è proprio di quel parte. Liga V di sicuro. Liga V sì. Allora, siete bravissimi, vi seguo sempre, grande Guido ci metti sempre tanta passione, troppo forte, si firma Bernabò. Bernabò, siete troppo buoni stasera, mi fate arrossire. Te mi sa che hai un po' elargito a destra e a manca. Qui vedete l'aspetto dell'opinion leader, stasera tra l'altro nessuno che ti vuole confermare ancora, vai. Forse si parla di rinnovo anche per Guido. Bravo Riccardo, bravo Riccardo. Parla avanti di rinnovi tecnici, ma mi sa che qua invece l'argomento è più dirottato. Fida questo punto di vista. Però a scuola settimana di esserlo, Casotti via e Giulio. Sì, è vero, è vero. Ma comunque non mi permetterei mai di passare avanti al grande Guido. Questo tifoso dice, era Galeone l'allenatore dell'Udinese, ma però non era Galeone. Abbiamo visto era Rino Marchese. Era Rino Marchese, sì. Questo è cieco perché dice Castagnoli sei proprio bello. Uno? E' cieco, ha detto Castagnoli sei proprio bello. Ma si è firmato? No, non si è firmato. Ma speriamo sia una donna. Vabbè, questo va a sperare, per ovvi motivi. Alla fine sarà Lega Pro, tutti uniti per le ultime quattro battaglie. Invadiamo Borgo San Lorenzo e Massa. Firmato Camigliano. Questo è Luca. Saluto anche a Camigliano. Che ci scrive Luca. Dice, splendido il faccione rosso del sindaco che sbraita nel finale del servizio di ieri dell'elettrodotto su Noi TV. Sull'elettrodotto di Balbano. Ha avuto qualche contenzioso con un po' di persone che erano lì, ma questo è un altro discorso. Il tifoso ci dice, Gian Piero ce lo può far vedere? Tanto per capire chi è il nostro sindaco. Firmato Luca. Non lo so se Gian Piero sul servizio di ieri elettrodotto riesce a trovare quelle immagini. Gian Piero potrebbe anche farlo, perché ha le capacità e le qualità per il servizio di ieri elettrodotto di Balbano. Ma proprio così per accontentare il nostro telespettatore. Questo non si firma e dice, la Pantera vuole la sci e mangiare oltre il Pisa la zebretta e le altre. Sappiamo, l'abbiamo detto molte volte, quanto sarebbe importante fare questo doppio salto. No prof. Certo. Questo tifoso non si firma e dice, datemi un suggerimento, sono di Barga, se incontro il Gino, che gli dico? Secondo me la tattica migliore, non gli dire niente. Non gli dire niente. Non gli dire niente. È anche giusto che sia così. Si riferiva a Taziole. A Taziole, certo, il Gino è a Taziole. Vabbè, ti chiedo una cosa prima di vedere le tabelle. 24 anni di lucchese, 14 in prima squadra, 10 prima nel settore giovanile. Quante volte… E allora che smetta? No, 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 ho fatto questa premessa perché quante volte hai vissuto un campionato così, un finale di campionato che si profila così emozionante, così palpitante? Sinceramente, testa a testa così, no. Lo dicevo l'altro giorno nello spogliatoio agli altri componenti dello staff. Devo anche dire che con soddisfazione ce lo siamo cercato e ce lo siamo voluto e l'abbiamo perseguito da quando rincorriamo la Correggese. E ora siamo contentissimi di essere lì e vogliamo fare ancora di più. però è stato veramente molto, molto… Mai però una situazione così. No, no, così stessa. Questa è anche la bellezza poi dello sport, tu che sei un uomo di sport, quando la competizione è a questi livelli per la categoria di appartenenza ad alti livelli e questa è la bellezza. A parte che è estremamente stimolante dal punto di vista professionale, ma non solo per me, anche per i ragazzi che lo stanno… cioè immaginiamo un finale di stagione per così dire tra virgolette anonimo, a quest'ora sei a fare l'allenamento, sì li fai con professionalità eccetera, preparati con lo stesso ardore come al solito, ma non hanno l'intensità e lo spirito che contraddistinguono. Ed è quello che poi si vede la domenica, perché il Mezzolara secondo me è un'ottima squadra, una delle migliori, però a un certo punto la forza di spesa, a un certo punto ma perché non hanno dentro quel fuoco che hanno la lucchese e che può avere probabilmente ala con reggese. Sì, allora questa è la cosa logicamente che è una riflessione che facciamo anche noi, che le motivazioni non possono essere le solite, però quella attenzione perché vista dall'altro punto di vista può essere anche un'arma a doppio taglio, nel senso che giocano anche con la tranquillità e con la spensieriatezza. Non avere nulla da perdere. Che se vai sotto di un gol non è, ti può riversare già tutti davanti per dire che so io, al ventesimo del primo tempo, cosa che magari in situazioni di equilibrio uno fa una gara diversamente accorta e praticamente più accorta. Domenica la squadra è stata molto brava anche perché è andata sotto e quello poteva incrinare molte certezze, invece ha saputo reagire e poi l'ha vinta. Vediamo la probabile formazione di Domenica. Ti chiedo Giulio una tua valutazione, se può essere questo o meno. Non lo so, noi l'abbiamo tirata giù così. Ah, ecco qua, ecco qua, ecco qua. Chi era il telespettatore, te lo ricordi come si chiamava? Luca si chiamava. Luca, guarda, ti abbiamo accontentato, Luca. Lo volevi, lo volevi e te l'abbiamo fatto vedere, guarda. No, vabbè, questo è un'altra persona. Vabbè, dai, possiamo, credo possiamo sfumare qui. Sei stato bravissimo, Gian Piero. Questa, vabbè, era un'altra vicenda che chiaramente non c'entra nulla con la lucchese. Vabbè, ma quello fa parte anche del ruolo. È chiaro che insomma, quando uno assume la carica dei primi cittadini, una città come Lucca, si assume tutti gli oneri, tutti gli onori, ma soprattutto anche tutti gli oneri che ciò comporta. E comunque noi, a scaso di equivoci, ci auguriamo che il sindaco Tambellini sappia far bene per il bene della città e per il bene di tutti. La probabile formazione della lucchese con Casapieri in porta è quella di Domenica, così, eh. Secondo noi, con il rientro di Especcia al posto di Biacini, che dobbiamo dire, tra l'altro ha fatto la sua buonissima partita Domenica. Vedo che fai così con la testa, come dire... Ma hai anticipato su tutto. No, come ti ho anticipato su tutto? Io l'ho tirata giù così, distinto. No, 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 ma volevo fare complimenti a Biacini perché effettivamente, avendo giocato pochissimo, Domenica a parte un inizio dove è partito un po' così magari anche con... Non giochi mai. Tradito un po' anche, poi forse anche dall'emozione, perché insomma giocava una partita importantissima, è partito un po' così non perfetto come poi è stato invece durante l'arco del secondo tempo, dove tra l'altro ha fatto anche l'assist per il gol di Caponi. Sì, sul gol di Caponi, sì. Quindi voglio dire, complimenti a Biacini perché non è facile, secondo me, trovare pronto quando un giocatore gioca così poco. E mentre vediamo il prossimo turno, Gian Piero, questo conferma, prof, la serietà anche di questi ragazzi. Sì, devo dire anche che... Questo è il prossimo turno intanto. Sono stati tenuti sempre coinvolti da questo punto di vista dal mister e non è mai stata... Non è mai mancata la settimana in cui venisse rinnovata l'enorme stima che ha in tutti quelli che fanno parte della Rosa. Quindi quando Biacini entra dopo dieci partite che è fuori, insomma, fa il suo. Biacini sa che, sapeva che sarebbe venuto il suo momento e si è fatto trovare, come ha detto giustamente Giulio, prontissimo. Tra l'altro, un mesetto fa ha affrontato anche lui alcuni problemi fisici sul ginocchio che ha risolto lui con grandissima applicazione e professionalità. Questa dimostrazione del fatto di quanto tenesse, di quanto tenga al progetto ancora attuale. L'ultima tabella è quella della volata verso la Lega Pro, l'abbiamo già visto prima dal calendario completo, però insomma la Correggese va a Castelfranco, vedremo se il mister Chezzi sarà di parola. Due settimane fa aveva promesso battaglia all'allora capolista solitaria Correggese. La Lucchese va a Borgo San Lorenzo con la Fortis. Poi giovedì, 32esima, si intende giovedì, la Correggese ospita il Mezzolara, la Lucchese va a Massa e poi nulla, la penultima dopo Pasqua la Correggese andrà a sua volta a Massa, la Lucchese avrà questo turno sulla carta che non dovrebbe essere impossibile col Forgoli e poi il confronto diretto dell'ultima giornata. Prof, ti ringrazio di essere stato con noi, è stato un piacere, abbiamo parlato di tanti argomenti, complimenti per tutto il lavoro che fai con grandissima professionalità e questo lo diciamo noi perché ci sono gli attestati e ci sono anche i risultati, ti ringraziamo. Il piacere è stato mio, vi ringrazio tutti, veramente. Dovere. Giulio, appuntamento fra 15 giorni, lo sai dobbiamo fare l'appuntamento perché giovedì prossimo c'è la partita, noi faremo un'edizione speciale del dopo partita e quindi noi ci ritroviamo fra 15 giorni. Va bene? A disposizione, certo. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, che ci avete soprattutto mandato i messaggi, col sottoscritto sinceramente siete stati troppo buoni, perfino troppo buoni. Vi ringrazio, naturalmente ringraziamo anche Gian Piero Pucci in regia e grazie per l'ascolto. Appuntamento allora con Curvo Ovest sarebbe giovedì a questo punto 24, giusto? Mi fate la mano di rifiuto. Giovedì 24, giovedì 24, giovedì prossimo però seguiteci alle 21 perché cercheremo di raccontarvi davvero tutto di questa partita dello stadio degli Olivetti tra la Massese e la Lucchese. Chissà, sarà quella decisiva oppure dovremo aspettare il 4 maggio. Vedremo. Buonasera. Grazie. 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 Grazie.